I carabinieri di Sambuca di Sicilia hanno arrestato stamattina Fabio Pullara, un quarantene di Palermo. È considerato lui l'autore, nella notte tra il 27 e il 28 agosto scorsi, dell'incendio di cinque auto nel centro di Sambuca di Sicilia. Le fiamme alle auto avevano causato un danno complessivo stimato in oltre 100 mila euro. Pullara in particolare è accusato di aver incendiato una microcar parcheggiata all'interno del centro storico. Le fiamme però si sono poi propagate velocemente anche ad altre auto vicino, cinque in totale come detto distruggendole completamente. In particolare oltre alla microcar le altre auto coinvolte sono una Ford Kuga, un Ford Transit, una Lancia Y ed una Range Rover Evoque. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Santa Margherita di Belice è evitato nell'occasione che l'incendio si potesse propagare ulteriormente. Infatti le fiamme divampatesi, alte alcuni metri e l'intenso fumo prodotto, avevano svegliato molti abitanti del centro storico creando anche un certo allarme tra la popolazione. Le indagini immediatamente avviate dai carabinieri coordinati dalla procura della Repubblica di Sciacca si sono subito sviluppate con l'acquisizione dei filmati di alcune telecamere di videosorveglianza situate nella zona interessata dall'incendio. Dalla visione di quelle stesse immagini, i militari dell'arma hanno accertato che gli individui potenzialmente coinvolti nel fatto criminoso erano tre. Le successive attività investigative, grazie anche ad alcune testimonianze acquisite, hanno poi permesso di individuare e di identificare con certezza uno degli autori, come detto il quarantenne Fabio Pullara, residente a Palermo, soggetto già noto alle forze dell'ordine. I consistenti elementi di prova complessivamente raccolti hanno consentito di inchiodare alle sue responsabilità l'uomo rintracciato ed arrestato all'alba e subito trasferito in carcere. Rimane ancora da chiarire il movente dell'incendio. Secondo alcune indiscrezioni non confermate dagli investigatori, in realtà si sarebbe trattato di una reazione ad un alterco avuto qualche ora prima col proprietario del microcar. Insomma, quelli che possono benissimo essere definiti futili motivi.